di avere con noi due persone che io stimo molto, Mimmo Lucano, sindaco che ha avuto vicissitudini molto differenti e anche pesanti che hanno parecchio influito sulla sua esistenza, sul morale, ma lui da buon calabrese non molla e quindi nulla potrà mai piegarlo né la magistratura né gli eventi. E poi abbiamo un esponente della nostra politica, quella che dicevo prima, della politica concreta, quella che realizza le cose.